Negligenza penso che sarebbe difficile perché siamo molto molto scrupolosi, però la mia impressione è che dovremmo un po' adattarci almeno per un altro anno. La postazione per eseguire i tamponi è accanto alla famosa farmacia. La guerra al Covid in Vaticano si combatte, anzitutto qui, con due vittoriose battaglie in evidenza. Non solo il focolaio debellato di 13 contagi nella caserma delle guardie svizzere. Fare il tracciamento dei contatti all'interno di un luogo comunitario ovviamente espone a maggiori rischi perché ci sta la mensa in comune. Ma anche il caso di Covid un mese fa a Santa Marta, residenza del Papa. Chiaramente lì c'è stato un maggiore coinvolgimento ovviamente perché lì è un luogo delicato. Quella situazione è risolta? Sì, sì, quella situazione per fortuna è risolta. L'arma di difesa da non deporre mai è la mascherina, tranne stando soli in un ambiente chiuso. E su quello cerchiamo di essere molto rigidi con la collaborazione anche della gendarmeria. Ma i trasgressori non mancano neppure qui. E chiaramente con molta fermezza è stato richiesto nell'applicazione di queste norme. E per i poveri e senza fissa dimora di San Pietro e dintorni c'è l'ambulatorio di medicina solidale accanto al colonnato in prima linea anche contro il Covid. Sono stati fatti molto tamponi, alcuni sono risultati positivi e quindi sono stati inviati negli ospedali pubblici. E per i poveri e per i poveri.